Musica Sono in diretta Buongiorno, buongiorno a tutti e buona domenica Ci stiamo preparando, infatti sono lavori in corso Siamo con Arianna E stiamo, mi sta preparando, mi sta trasformando Per fare un servizio educativo che siamo a Salanta Oggi giriamo, facciamo le foto E quindi mi stanno migliorando Vediamo se si dormono in tutti, non c'è nessuno ancora in linea Ciao Ettore, buongiorno Siamo al Salone Evolution in via San Gottardo 23 a Bellinzona Arianna trasforma tutti, qualsiasi situazione avete un numero Buongiorno, buongiorno Paperi, trucco, qualsiasi cosa Ciao Nelson, ciao Lina Ciao Silvi, ciao Giuliana Buona domenica E poi c'è Samanta invece che ci protocca E' già all'opera, vedete con la macchinetta Dai ci ricolleghiamo dopo che vi faccio vedere il risultato finale, ok? Ho già fatto un miracolo ve lo dico Ciao ragazzi, ciao 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 Buon pomeriggio Buon pomeriggio, come state? Guardate un po', siamo sul set C'è Samanta Che fotografa C'è ancora nessuno connesso Erano tutti in città Bellinzona a guardarmi Di solito non c'è mai in giro nessuno in questa città, no? Oggi era pieno di gente Io devo fare le foto Come state? Vediamo Ciao Oli, ciao Marco, ciao Vledi, ciao Maffi Siamo sul set Stiamo girando Stiamo girando, non stiamo girando Samanta sta facendo le foto Per la nostra pubblicità Oggi indosso un bellissimo cappotto rosso S Io prima portavo l'XL, ve lo ricordo Cioè non c'era la mia taglia Non so se vi rendete conto Ma è mi è capitato di andare in un negozio Comprarmi un cappotto E non avere la taglia perché è troppo piccola Cioè io prima avevo il problema opposto Quindi se mi stai guardando in questo momento Ogni volta che vai a fare shopping Comprarti vestiti Fai fatica Perché non c'è la tua taglia? Perché è vesti XXL Sappi che anche io ero così fino a tre anni fa Ho già dovuto comprare una S E mi va pure larga Quindi Cioè la strategia per il benessere c'è Assolutamente Siamo con Samanta Vediamo se riesco a farvi vedere Samanta Eccola Samy fotografa, scatta C'è una pazienza infinita Quindi se avete bisogno delle foto Contattatela Perché è veramente bravissima Su Facebook la trovate come Samanta Montagnini Giusto? Fotografi Quindi sito Ecco vedete che fotografa Abbiamo i capelli E il trucco Vediamo se riesco Così si vede È stato fatto Dall'Arianna Quindi Salone Evolution Bravissima Buongiorno E buona domenica Sei bellissima con il cappotto rosso Grazie Ti piace? Guardate la nostra Dove ci cambiamo Cioè praticamente Ragazzi mi sono congelata viva Non so che potete Veramente Un freddo allucinante Guardate le mie mani Sono congelate Bene Io e Arianna abbiamo finito Per oggi Anche lei si è congelata Che vestita Oh Giulia Siamo state anche sgridate Perché abbiamo fatto delle foto In un posto sacro Però va bene uguale Bene ragazzi Io vi saluto Vi auguro una buona giornata E presto con le foto Bye Bye